Un attimo, andate per il disagio mamma. Non ho capito, mi chiedi, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Moninnello, miniaturo, carta gigante signore e signore speriamo che le canne non partano perchè no perchè basta che le canne non partano si le ho aperti vediamoci volare vediamo una carne che parte dentro dopo questo cercheremo il black bus con vivo non tira molto eh ormai ha fatto un po' di fila la volta la tecnica del cat fishing guarda la carpa che è la che sbolleggia eccola, mi parevo che doveva partire adesso no, no, no no, no no, no dannazione cosa che saltala, hai visto? è stato qualcos'altro di mezzo al lago mi preoccupo mi preoccupo delle canne non sto lì ora forse via attento alle cave nel rapazio è troppo grosso ce la facciamo, ce la facciamo no 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 non ci sta neanche se piangi ci sta non ci statevi e come la vuoi prendere? vuole le mani, la prendo io tu devi solo fare cameraman, cameraman uff 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 catturiamo pesci giganti con attrezzature di minima minimo, piccolo e piccolo è ancora tutta in piena forza, il vigore della carta però è costa, è costa in mezzo alle api ci muoviamo in modo buono cosa? quante api? se non lo ritorniamo allora non ci rompono speriamo oh storione che non si vede così io ho paura che ci mangiano vivi le lapi eccola qua la regina eccola la lorenzo la carpa che ci stanno mangiando vivi e storione eccolo lì di fianco alla carpa lo storione dove si vede? si vede anche qui è bello grande oh caro stiamo tentando l'impossibile per catturare una carpa abbiamo abbandonato la pesca allo storione stiamo dedicando al carpismo il sportivo carpismo oh scusa eh vabbè sono cose che capitano non si riuscirà ferma no c'è l'affare al godino non c'è 4 minuti e mezzo? no 4 e 50 55 4 minuti e 55 455 secondi si mio dio oh spodio si va bene non si è stancabile sta carpa stancabile è grosso si è stancabile ma che ci sono mi bagno io che io te lo fai tu vado io faccio tutto da solo devo solo fare la riva sulla riva eh ce la tengo io mentre la prendi vai ci siamo guardati un po' indietro oh ma si poi si potrei una patina controllare le camine giù dal fondo perchè partono quando vedi la riva? se quando è così moriamo se la tengo ce la tengo dammi dammi fermo fermo non mi toccare a me lo faccio io se la portano a me lo faccio io se la portano a me lo faccio io se la carna qui è la carna qui è la carna la stalla è ma chi è stranuto ti ci sei ecco la carpa che c'è? cosa tu con la boffa stossa? non è facile da groundcar la carpa così non so mica tutti i pantaloni eh niente eh già la boffa è una carpa erotante oh no se lo teneo no si spacca la canna se la tene tu ho solo toccata tu vuoi provare la carta pompeggiante ma vuole che si spacca così si spacca il filo vai tranquillo no no la canna intendi la canna ma si rompe guarda com'è non 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 guarda com'è è là la canna si segui i pantalonili co via 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 qua bella però però io voglio dire anche la fuori di cuore per quanto così il tuo cuore per quanto riguarda l'uomo per il mio carriolo ho avuto dopo quello con me la strada ha la schiena martoriata allora io l'ho beccato di un uccello guarda mia salute vai da lontano fammi le quadrature ecco i cittadini ciao ragazzi l'ho beccato l'ho beccato l'ho beccato